Oltre 2 milioni e 500 mila euro di utile, sopra ogni rosea previsione ed in aumento dell'11% i numeri che i vertici di SECAM, Società per l'Ecologia e l'Ambiente, hanno presentato all'Assemblea dei Soci, riuniti lo scorso lunedì presso il Palazzo della Provincia. Un bilancio che chiude anche quest'anno con un discreto utile, circa 947 mila euro dopo le imposte, quindi utile e netto, è un risultato assolutamente soddisfacente, tenendo conto che anche nel 2017, come peraltro fatto oggi, avevamo diminuito dell'1% le tariffe di smaltimento dei rifiuti, quindi un aspetto positivo per i nostri comuni, in quanto sono loro che beneficiano della riduzione del costo di smaltimento. Positivi anche i dati relativi al patrimonio netto della società che, con poco meno di 12 milioni di euro, ha registrato un incremento dell'8,8% rispetto al 2016. Gli incoraggianti dati economici vanno a vantaggio delle amministrazioni comunali, azioniste della società che si occupa della gestione del servizio idrico integrato e della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti in Valtellina e Valchiavenna. I comuni potranno quindi decidere di abbassare le aliquote, in particolare la tare, tassa su rifiuti, ai propri cittadini. In netta riduzione i rifiuti solidi urbani, 80 mila le tonnellate raccolte da SECAM nel 2017. L'immondizia smaltita presso la discarica di Gordona aumenta a poco meno di 14 mila tonnellate, con un calo del 5% rispetto al 2016, mentre gli impianti di Cedrasco trattano 40 mila tonnellate di rifiuti, con una riduzione dell'1,46% rispetto all'anno precedente. L'impianto di bioessicazione ha avuto un ottimo andamento, tant'è vero che la percentuale di diminuzione tra il peso in entrata all'impianto e quella di uscita per l'avvio allo smaltimento è stata una riduzione del 33%. Questo è un aspetto positivo che ha generato delle economie, economie che anche per il 2018, come ho detto prima, vengono destinati a riduzione della tariffa di smaltimento a favore dei nostri comuni. Numerosi gli interventi sul fronte della gestione del sistema idrico integrato. Nel 2017 SECAM ha investito oltre 12 milioni di euro per mettere a norma gli impianti e per garantire la qualità dell'acqua.